Vi mostro come trapiantare i cavolfiori. Adesso siamo ad agosto, noi andiamo a trapiantare i nostri cavolfiori. Utilizziamo questo che ci aiuta ad andare dritti in ogni nodo dove piantiamo la piantina. Adesso lo stendiamo. Poi, altra cosa, un cavicchio e adesso vado a prendere le piantine. Ecco qua le nostre piantine. Adesso va bene, non fate caso alle cime di rapa. Abbiamo cavolfiore verde e cavolfiore bianco. Adesso partiamo con quello bianco. Andiamo ad estrarre le piantine dal vassoio. Vedete, hanno delle radici. E andiamo a piantarle direttamente qua. Poi la la gocciolante la sistemiamo bene, proprio nella posizione giusta. Allora, vedete il nodo. Corrisponde al gocciolante. Quindi qua. Mettiamo la piantina. Copriamo un pochino. Il montaggio che forma un po' di buchetta per l'acqua. Adesso procediamo tutto fino in fondo. Distribuiamo le piantine nei vari punti, in modo da velocizzare un po' il trapianto. Come vi ho detto prima, ogni nodo corrisponde alla distanza in cui piantare. In questo caso i nodi li abbiamo fatti corrispondere con le gocciolanti della manichetta, quindi ogni 40 cm. Una volta che abbiamo distribuito tutto questo, andiamo a prendere gli altri, quelli verdi. Ovviamente, vabbè, qua ne mancava uno. Procediamo fino in fondo alla fila con le piante che mancano della varietà verde. Allora, la varietà bianca è il classico cavolfiore, palla di neve. Invece la varietà verde è una varietà di macerata. Ok, procediamo il trapianto. Si può fare col cavicchio. Si fa una piccola buca, si inserisce la piantina e poi si ricopre con la terra, facendo una specie di buchetta. Oppure si può fare tranquillamente con le mani e dipende un po' da uno come è abituato a fare il tutto. Ora procediamo con tutta la fila, come questa qua davanti. Adesso, vabbè, abbiamo cercato di fare la fila completa bianca, ma dalla semina non ne sono nati abbastanza, quindi li abbiamo mischiati un po' con quelli verdi. La fila è stata fatta, come potete vedere, rialzata, in modo tale che per la stagione diciamo autunnale, in cui magari possono esserci piogge molto frequenti e abbondanti, o anche per questa estiva, l'acqua andrà a colare nei solchi e non rimane sulla parte diciamo in cui c'è la pianta, negando la pianta. La manichetta verrà messa a fianco alla piantina, in modo tale che assorbe subito l'acqua, senza che quelli nei sentieri. Sentieri fatti sempre con la moto zappa, con il suo attrezzo l'arato opposito. Come potete vedere ci sono i pomodori da una parte e i peperoni dall'altra. Siamo, come ho detto prima, ad agosto, quindi i pomodori diciamo sono quasi terminati e stanno listando i peperoni i primi. Allora, eccoci qua nella fila in cui andiamo a piantare i cavolfiori verdi. Li andremo a piantare solo diciamo nella parte finale, perché nella parte iniziale qua e centrale andremo a piantare altre piantine più avanti. Procediamo con la zappa in modo da risistemare un attimino il sentiero, perché essendo delle piante di fagioli così che sono molto larghe, con la moto zappa diciamo abbiamo fatto un pochino fatica, siamo dovuti stare più lontani. Ora con la zappa facciamo una sorta di rincalzo sulla iubola in modo da alzarla bene, come vedete la fila a fianco dei peperoni che è molto alta. Una volta che abbiamo rincalzato tutta la fila con la zappa semplicemente andiamo a livellare la parte alta in modo tale che sia abbastanza piana in cui piantare le cantine e non ci sia una sorta di fossetta che trattiene troppa acqua. Facciamo questa operazione sempre per tutta la fila, contate che quei fagioli qua avranno ancora qualche settimana e poi li andremo a togliere. I fagioli che quest'anno non sono venuti particolarmente bene, ma ne sono spuntate solo qualche pianta su tutta la fila e quindi credo che prossimo anno non andremo più a ripiantare fagioli che occuperanno molto spazio ma opteremo per metterli e usare come quest'anno i fagiolini che andranno a produrre nello stesso spazio molto di più. Cominciamo a trapiantare i nostri cavolfiori verdi, andiamo sul fondo della fila come potete vedere, sempre a stesso metodo, si può fare col cavicchio o senza. Andiamo sempre a mettere distanza di 40 centimetri uno dall'altro in modo tale che cresceranno e si possono allargare tranquillamente. Contate che tra una pianta e l'altra ci sono 40 centimetri, ma tra una fila e l'altra ce ne sono 60, quindi avranno molto spazio per svilupparsi e crescere. Poi in fondo al video vi mostro come sono venuti alcuni cavolfiori che abbiamo raccolto di queste piantine. Una volta finito di trapiantare le piantine dei cavolfiori da semenzaio, vi mostro un attimino più da vicino come sono state trapiantate. Ok, adesso mi sposto, ecco qua. Abbiamo dei fagioli, come potete vedere c'è molto spazio vuoto e i primi cavolfiori. Ed adesso hanno una distanza molto larga. Sono alternate a qualche piante dei fagioli, come vi dicevo, perché non sono cresciuti al massimo. Questi invece sono quelli bianchi. Ovviamente il filo non l'abbiamo usato nella seconda fila perché c'era già il riferimento dei fagioli e della manichetta, quindi era abbastanza inutile. E boh, vi aspetto al prossimo video. E vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi al canale, così da non perdere nessuno dei video e anche i prossimi argomenti che tratteremo. Al prossimo video. Grazie.